Si chiama Io Sto Con Zani, il progetto che il Comune di Pescara, in collaborazione con alcune associazioni, ha promosso per riqualificare e rendere più sicure le zone periferiche della città. Nell'ambito dell'iniziativa è stato attivato uno sportello di ascolto per fornire un supporto burocratico legale e favorire l'integrazione nel mondo del lavoro, oltre all'attivazione di laboratori per giovani ed adulti. Noi siamo molto attenti a queste problematiche, soprattutto Pescara è una città che vive attraverso il contatto tra il Comune e le associazioni che operano e che applicano appieno quel concetto di sussidiarietà e di solidarietà che poi procura vantaggi a tutta la società. Noi entriamo proprio nelle periferie, quindi sono progetti che vedono coinvolti proprio le persone che abitano nel quartiere a cui daremo anche un supporto anche concreto, un aiuto concreto, dando delle informazioni, facendo anche delle attività sociali, molte attività di inclusione sociale. È veramente un bel progetto e siamo contenti di esserci. Massimo Eppoliti, quali le maggiori difficoltà incontrate e soprattutto quali gli obiettivi che volete raggiungere in brevissimo tempo? Allora, il quartiere vive diciamo un'assenza di socialità da molto tempo. Dopo aver superato quella grande crisi degli anni della droga, dell'eroina, che ancora non sono completamente superate queste problematiche in queste zone, ma dopo questo periodo così intenso il quartiere ha bisogno di rivivere una socialità, di avere degli spot, degli spazi dove le persone si possono unire. Per questo faremo dei corsi, sia per i giovani che per gli anziani, corsi di utilizzo positivo dei social network o alfabetizzazione digitale di base. Questo è il lavoro che facciamo con la comunità, oltre quindi ad avere uno sportello fisso, che non veicola ad un ascolto generico, ma ha degli obiettivi mensili che ogni mese vengono ricalibrati a seconda delle disponibilità. E poi il distintivo di On The Road è già stato riconfermato, che è quello di aiutare le persone in grave marginalità. Abbiamo già accolto due persone che avevano perso casa, quindi due persone che erano in strada, senza tetto, sono state accolte sempre grazie ai progetti che in continuità con questo sviluppiamo col comune di Pescara, ovvero quelli dell'housing. Quindi questa rete progettuale, oltre ad una rete fattiva di partner che abbiamo su questi progetti, è attiva un po' per tamponare tutte le esigenze sociali del quartiere.